Fuori fascisti e razzisti da Torre del Greco, questo lo slogan che campeggia su manifesti che da ieri sera tappezzano il centro storico di Torre del Greco, alla vigilia dell'arrivo del leader della Lega, Matteo Salvini. L'ex ministro sarà domani in visita alla città del Corallo. Il tour prevede una passeggiata nel centro cittadino, un giro nella piazzetta di Largo Santissimo e un comizio vicino alla fontana di Corso Vittorio Emanuele. Molti torresi però non sembrano apprezzare l'arrivo del capitano. Ieri sera le strade del centro sono state tappezzate i manifesti contro Salvini. Uno dei fogli mostra la faccia del politico modificata e deturpata, sull'altro foglio un lungo messaggio alla cittadinanza che ribadisce fuori fascisti e razzisti da Torre del Greco. Questi manifesti sono comparsi su muri, cassonetti e limondizia, cestini e lampioni dell'intero centro storico, dalla villa comunale fino a piazza Santa Croce. Alcuni, in via Roma e Salvatornoto, sono stati rimossi in mattinata, ma le immagini sono ancora ben visibili in ogni strada. Da alcuni commenti raccolti ai torresi emerge perplessità sui motivi della visita del capitano. Dovrebbero cacciarlo. Perché? E a cosa serve Salvini? Dimmi, spiegatemi voi a cosa serve Salvini. C'è chi invece, nonostante le già iniziali contestazioni, si dichiara tollerante e ospitale. Allora del Greco siamo ospitati con tutti, siamo per tutti, siamo in democrazia, è venuto di lui quando hanno avuto tutto il sinistro perché non andavano i Salvini, che ben venga.